Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questo nuovo video, sono sempre io il vostro Jurassic 4.1.10 E oggi siamo qua nuovamente su Evil Genius 2 Siamo qua dove ci siamo lasciati nello scorso episodio Dove speriamo che finalmente, finalmente, riusciremo a prendere il nostro secondo henchman in realtà Ora E qua Cerca un indizio, è proprio quello che dobbiamo fare, sapete? Ma, teoricamente, ah, vorrei abbassare il nuovo la tensione gradualmente Sì, facciamo questo piano e questo anche C'è un altro piano in corso, ah beh, è quello che ho appena fatto Ok, abbiamo buttato giù la tensione, perfetto E adesso buttiamo anche questo Bene, torniamo un momentino alla nostra bellissima base Allora, avevamo un paio di problemi, se non ricordo Male Non, però, non mi ricordo perché è passata una settimana dall'ultimo video Non mi ricordo A recuperare le particelle atomiche sul palco mondiale Ah già, avevamo, avevamo attivato questo Questo brutto signore qua E' a recuperare le particelle atomiche che ci hanno detto Ok E' ingrandiamo anche un po' la nostra zona oro La zona oro Qua sapete che io, così, è giusto per avere La rispandere proprio, ma neanche tantissimo Proprio, giusto per averla un pochino più Nell'ing Jubei down Bene Quindi interroga gente a Anvil nel covo Esatto, è quello che mi aspettavo di dover fare Ok Allora, ingrandiamola proprio così Ma non, neanche proprio, così è ingrandita proprio poco Però Vedete che comunque Un po' più di oro viene aggiunto tranquillamente Così possiamo espandere il nostro Il nostro dominio sul mondo Ok Anche qua ruota Ok Guardate che ce la facciamo Ok Chi? Cosa? Dove? Pausa? Ma questi sono agenti Anvil Oh, guarda che bello Guarda che bello Sono proprio agenti Anvil Questi brutti signori qua Ma si, aprite questa bellissima porta Da ci sono le mie guardie Ce n'è solo una in realtà E soprattutto non fa niente Ah, beh, strabello Ma, ma Ma se io Mi fa piacere comunque come sono intelligenti Vieni qua subito E che? Vieni qua Beh sei Lo c'è Mi servirebbe mettere una telecamera qua Sapete? Tipo qua che guarda un po' Ma dove? Dove? Dove sei? Starà arrivando immagino Forse Sta cambiando Guardate quanto cammina piano Perché cammini così piano? Ah, ma corri, corri Dai che sono proprio le persone Le brutte persone che mi servono Perché? Dici No? Oh Eh, vai Scendi pa' sotto Brava, scendi sotto Eccoci Bravi Comparite Bene Oh, grazie Ok, quando però li vedono Il problema è che sono travestiti Questi brutti signori qua Mi serve Dobbiamo trovare qualcuno in grado Di scuovare i brutti signori travestiti Perché Potrebbe essere un problema Io compuro, sapete? Ma mettiamo qua due bellissime telecamere Bene Però Dove sei? Qua Attiva questo Ecco Per così almeno chiamo a tutti gli altri Chiamo a tutti gli altri Prima o poi Appena Appena ce la fanno Perché Guardate quanto Vediamo se riescono a fare col po' Un henchman È in danger Eh, lo so Sei tu Sei Ok, però almeno ho chiamato le nostre cose Ok, mettiamo una videocamera anche qua Mettiamo una videocamera anche qua Ah beh, c'è già qua la videocamera Quindi a posto Bene Qua ce ne si sono Ci sono altri Eh, perché sono travestiti Sono Ma come Ma come faccio a detravestirli? Cioè questo è un grossissimo problema Come faccio? Non c'è una trappola che detraveste le persone Non penso Purtroppo Cioè perché il problema è Queste in realtà Un paio meno sdrucciolevole Mettiamo un paio meno sdrucciolevole qua Facciamo qualche danno Di interno Non so Non penso Mettiamo un po' Un po' di trappola qua 20.000 costa Ma guarda Se costa 20.000 Ne faccio volentieri a meno Anche perché non è così potente Boh, mettiamo La trappola degli squali Dai qua fuori Che sembra Carina Che sembra sempre carina La trappola degli squali Sembra E poi Non posso metterla Perché c'è l'estintore Che è in mezzo alle scatole Bene Adesso posso metterla Sì Bene Conferma Vai avanti col tempo Il problema è che vedete Cioè Lo so che sono questi Il problema è che sono travestiti Ma scusa E se facessi venire invece Questo brutto soggetto qua Eh non può sparargli Nemmeno lui Non può sparargli Però E' un problema Effettivamente Perché tipo questi Eh vedete Cioè questi E' E' che mi disattiva Le trappole Cioè questo è il problema Più grave Il fatto che mi disattiva Le trappole E mi ciulano i soldi Adesso Mi stanno ciulando i soldi Qualcuno faccia qualcosa Per favore Come faccio a fermare Eh Allarme rosso Nell'arme rosso Si detravestono magari No Come faccio a travestirli Ma dove stanno andando Stanno scendendo Nella pavola Tanto qua sotto Non c'è niente Che sotto Che sotto Che niente Eh no Andiamo un attimo qua Interroghiamo questi brutti Signori qua Mi piace Che è più importante Scorta Prigioniero Qua In terra Da lì Anche qua lì No no In terra In terra Ok Ne abbiamo uno Per adesso Quanti Passo pagano qualcuno No Ok Ok Si il problema Ma C'è qualche Magari Ok bene Stiamo in allerta Un momento Ok Qua cosa c'è Punto escamativo Traferimento Fallito Di fondo Conseguenza Se non viene risolta Risolvi subito Quello è un problema Allora qua Stiamo facendo Un po' di missioni Eh Ci servono Un po' di Di queste Non mi ricordo Queste qua Sì sono queste Ok vai Questa lo stiamo già facendo Bene Grazie mille Questo cos'è E le particelle atomiche Sì Sono quelle che mi servono Anche qua Vai Anche questo Mi serve Ok E qua possiamo fare qualcosa Possiamo fare questo Che ci da tantissimi soldi Esatto Torniamo un momento alla base Vediamo come Ok Vediamo che cosa succede Vediamo dove sono finiti i nostri Molto bene Molto bene Ricerca Adesso io volevo Volevo capire una cosa Abbiamo la possibilità di Cassaforti Di l'idea non si hanno visto una sfida Perciò ti mi occupati a disco Ti sono scoperti Non è per niente Sicura Finta Cassaforte Questo è top In realtà Costa un sacco Però questa qua Esatto Allora Perché anche questo qua In realtà Non è male E anche Beh Questa in realtà Firmine progressi Minus serviti Non mette mano al portafoglio Questo è Ehm Paywall Questo Salari Salari No più che altro Mi interessa La finta Cassaforte In realtà mi interessa Perché tipo Questi signori qua Che sono appena entrati Qua sono passati Tranquillamente Sono passati Tranquillamente Ma Se Ehm Se 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 invece mettiamo Quella finta Cassaforte Di questi signori qua Vanno verso Quella Cassaforte Ok Beh Dobbiamo iniziare In realtà A sostituire Un paio di generatori Partiamo da Vabbè La stanzina qua Piccola Quanti ne abbiamo catturati Ma stanno ancora girando Questi qua Per favore Vieni qua Stanno ancora girando Questi qua Ecco Red Alert Grazie Quanto è di fuori Niente Comunque niente I miei minions Fancagare Io lo dico I miei minions Sono proprio scarsi Scarsi Sui henchman È in combattio Eh bene Almeno 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 forse vince Forse è l'unica Che può fare qualcosa Oh Li abbiamo beccati tutti Va che bello Almeno finiamo Di quella questa Grazie mille Oh là Scorta più genera Bene Allarme finita Allora 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 Andiamo a ingrandire Leggermente Allora Modifichiamo questa Che è una di quelle un pochino più grosse Questa data quindi Ehm Boh Facciamo È arrivata un'ondata Risabottatore Grazie Allora 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 Beh Stravello Ah C'avevamo anche questo problema Quindi Possono rifiutare di rispondere alle nostre domande Perché qua non posso metterle Un agente ha stato capturato Cosa c'è di me Questo bene Vediamo tutta quella roba Ok E niente Gli agenti non hanno risposto alle nostre domande Stravello Molto 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 Bene Effettivamente Ok Qua ci sta uno di questi No Qua ci sta ancora i piccoli Sì Mettiamo questi po' più piccoli Ok Qua vendiamo un po' di roba Ok Ci danno 40 E costano Tanto in realtà Però bisogna metterli un pochino Cioè sono più grossi Sono più corti rispetto a quelli di grossi Effettivamente Però il problema è che le nostre stanze Non sono perfettamente quadrate Le nostre stanze sono un po' strane Ma per colpa della nostra base Qui è strana E quindi Ci sono un pochino di Aspetta Spostiamo qua Qua se ne sta ancora uno Esatto Lo mettiamo Qua ci sta uno di quelli Piccoli Corti Giusto Ok Qua possiamo mettere questo Qua possiamo mettere qualcosa Di questi Tipo Qua no Possiamo metterlo Ma possiamo metterlo qua indietro In realtà Bene Sì e qua possiamo mettere questo Forse anche questo Possiamo mettere anche questo Possiamo mettere Mettiamo questo Allora Bene Conferma tutto Senza energia elettrica Ok Perché abbiamo perduto tutti i generatori C'è ragione anche tu Ok State nell'allarme rosso Grazie Ah ma qua proprio Mi stanno sparendo le Ma mi spariscono proprio Eh ho capito che stanno Stealing the goal Ma mi spariscono proprio Tutti i cassette Mi spariscono C'è un problema Perché mi tocca Ricomprarli poi Vabbè che tanto La micro La micro roba qua sopra Non mi interessa Per più di tanto Cioè però Mi da fastidio Scusate Mi sparisce proprio Un pezzo di base Ma sono ancora qua Questi qua Ma che ansia Ma sono sempre Gli stessi sono Dove 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 Ma ha fatto a prendere fuoco Tutto qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vola qua Iris Per favore Fixa Fixa il problema Si dai Iris Vieni qua Fixa subito il problema Dove sei? Fulmine Portateli per favore Dentro questi I soggetti qua Portate dentro Questi soggetti Portate dentro Queste brutte persone qua Grazie mille Almeno Oh Che cosa stai facendo Stai combattendo Non trovo qualcuno Dove sei? Dove è? Ma un bel Un pulsante Ah ecco Ah si qua Ferma Stop Stop Dai che tanto Sono tutti Anvil Questi qua Sono tutti quelli Che ci servono Sabre Sabre Possono morire Sabre non ci interessa Sabre Possiamo poter farli fuori Qualcuno può fare qualcosa Per favore Qualcuno riesce a fare qualcosa Bene Mettiamo più Spegnimenti Perché questa zona qua Mi pareva da poco spesso Cioè è già un po' di volte Che è andata a fuoco Per favore Non è che mi Non è che mi spirito Qua è anche una bella telecamera Ma come? Qualcuno fa Per favore Ma Qua tutta quella gente qua Che stava gente Questa gente Ah perché qua Ma possibile che qua Non abbiamo Un qualcuno Che riesce a difendere? Eh bene bene Possibile che non abbiamo Boh Una trappola Un qualcosa Che Adesso mettiamo In piano 4 Vabbè Quello del suo Lo so Lo so Sì sì Vai a fare quello che devi È rivolta contro di me Perfetto Allora Ma prendiamo un po' più Guardie E mercenari Siamo più Guardie E mercenari Perché Come sempre Siamo senza Minion Quindi dai Assolda un po' di Grazie Hola Ok siamo È tutto sotto controllo Ma Sembra di essere Quale è tutto sotto controllo Scorta prigioniero Qua Scorta prigioniero Qua Dai Non vi fate qualcosa Anche qua Scorta prigioniero Ah non puoi Eh sotto Magari c'è qualcuno No 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 È tutto ok In teoria È tutto ok Poi Ehm Facciamo così Sì sì va bene Sto dicendo qualcosa An agent An agent Has been subdued And captured An interrogation Has succeeded You've been able To check his movements For significant periods Of time Perfetto How Speak And this is all Over We disabled His wind walking ability Ah I'd suspected It was possible He was traumatized By losing a dance contest In his youth And he loses all focus When he hears Sol Vassanova Then he has both No chance And no taste Eliminate this peon And find my Quincy Jones Vinyl collection Interrogation Success An agent Has given us Secrets Ok Allora scorta prigioniero Scorta prigioniero Qua sotto Ok E adesso demoliamo Anche quella zona qua Perché mi dà fastidio Mi dà fastidio Averla da sopra Quindi Scorta prigioniero Ok Bene Andate tutti fuori Ok E quella zona qua Adesso la distruggiamo E la ingrandiamo E facciamo una Una zona Ci serve anche Un'altra zona Archivola In questo modo L'intelligenza Come sono messo L'intelligenza Nei miei servitori Fammi controllare Perché Se si serve Facciamo un'altra di cose Niente Qua non posso Schiacciarci sopra Qua come sei messo Te Ecco Qua come sei messo Intelligenza piena Qua intelligenza Non ce l'ha L'intelligenza Quaranta Quarantaquattro No l'intelligenza Oddio non è altissima Quasi tutti Non hanno L'intelligenza altissima In realtà Però è pur vero Che io potrei Mettere semplicemente Delle decorazioni Stile questo Esatto Recupero l'intelligenza E me ne frego Altamente Di tutto il resto Ma se potrebbe anche fare Anzi addirittura Addirittura lo facciamo Perfetto Quindi qua Ok Sì Qua voglio demolire Questa con la zona qua Quindi E no Voglio questa Ok Demoliamo Questa Zona qui E qua ingrandiamo tutto così Ok Perfetto E qua abbiamo ingrandito Tutta la zona qua E almeno Non abbiamo anche il cabbio Non può fare Questo Questo deve fare così Bene Ok Perfetto Come questo Noi lo spostiamo Qua indietro Sì Lì c'è quel buco qua Di rollo Che possiamo scensare Vabbè Questo adesso Spostiamo un secondo qua Questo lo spostiamo Qua contro il muro Ce ne stava uno solo E vabbè Allora lo facciamo così Tipo di stanza Qua chiudiamo Questa zona qua Lo facciamo così Anche se la facciamo Ok Il letto Ah non ci sta Beh conferma tutto così In passione Non sa Questo deve essere Venti 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 Perché potevo spostarle sotto Veramente Però Vabbè Easy Ok Vieni qua Con questo letto qua Ok Questo lo spostiamo Qui Questo lo spostiamo Qui Questo lo spostiamo Questo lo spostiamo Qua in fondo Ok E qua Tenteremo da forza Così Ok Qua possiamo fare Una cosa di questo tipo In realtà Tipo di stanza Mettiamo Bellissimo muro Qua Tipo 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 Una cosa del genere Possiamo fare No Aspetta E Questa che stanza è Letto Ok Facciamo così E la qua Spostiamo Prendiamo queste Spostiamo qua Non so perché Ci sto mettendo così Tanto tempo Per fare Zero seconds To comply Ah ok Sta facendo Qualche battaglia In corso Tra l'altro Strabello Che stanno Questi pizzi Qua stanno Stanno volando Come vedete Molto Molto simpatico Sei tu in realtà Sicuramente sì Allora Facciamo così Ok Che almeno abbiamo Un po' di roba Bene Qua mettiamo Un altro fantastico Muro Perché secondo me Non hanno neanche Abbastanza Abbastanza Stanze Questi qua Sapete Secondo me No Secondo me Non hanno abbastanza Stanze No Cosa è successo Questa Ok Eh beh No Così non va bene Però c'è Così deve essere così Qua deve essere Più espanso Tre ore Per fare una stanzina Microscopica Ma signori Cosa succede? Signori C'è qualche Ust che non va Ah ok Ha dei aggiornamenti Da scaricare Sì sì Fai 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 cosa Devi fare Iris Nel senso Tranquilla Per me Un agent Ha escapato Captività Un agente Scappare Ma come avrà fatto A scappare Se ci sono 7000 guardia Chi lo sa Eppure è successo Mettiamo questi qua Ah Non dovevo girarmi Ok Va bene A posto Decorazioni Mettiamo Eh Rossi Tuoi network criminali Sono idoli Considere Rai alcuni schemi Ok Eh sì Lo faccio subito Ok Questo cosa fa? Rallenta la parità di morale Sembra far luce Vabbè Niente No mi interessava Interessavano queste Di metterle qua a caso Massimo Tipo così Eccolo Conferma tutto Non puoi confermare Alcone modifiche Ah perché c'è quella porta qua Ah perché mi sa che Perché è dell'altro tipo Va bene Tutto confermato Grazie mille Ok smontate tutto Perfetto Abbiamo un sacco di soldi In realtà Com'è non è che ci serve Fare troppi piani Effettivamente Però Qua Niente Facciamo qualcosa che non va Come sempre direi Ok Possiamo fare un bel corridoio Tipo No Volevo fare un corridoio Che portarsi fa Invece non si può Va bene Grazie Ah Dobbiamo potenziare Qua abbiamo già fatto tutto Dobbiamo potenziare anche Ah bene Perfetto Abbiamo questo Benissimo Attiviamo questa Arma è servito Con grandi bastoni Elettrificati Ideali per catturare Nemici più forti Questi sono assolutamente necessari Anche questi E anche questi Sono necessari Tutti questi Sono assolutamente necessari Quindi Li facciamo Adesso li facciamo tutti Queste cose Perché ci serve La risposta è perché ci serve Ci serve Ok perfetto Dov'è? Questi li hanno fermati Però Come hanno fatto a fermarli Questi Questi li hanno beccati Però Grande Ok Bene Almeno finalmente Forse Forse Riusciamo a fare qualcosa Oggetti Finta cassaforte Tipo questa qua La metterei E altro Mettiamo un po' di trappole Nodo random Così Ma esatto Tanto Ok ma tra l'altro Tutti vanno sempre a destra Nessuno che Passa mai di qua A sinistra Non ho mica capito Non ho mica capito Perché Vabbè Ma meglio Nel senso Allora Allora qua facciamo così La mettiamo questo Ok e qua mettiamo Questa la spostiamo qua Ok e qua mettiamo La cosa degli squali La bellissima cosa degli squali E' un'altra che c'è in mezzo a questo Ok mettiamo la cosa degli squali qua Bella come il sole Ok perfetto Confermo Bene Oh finalmente Forse riusciamo a fare qualcosa Allora Ricerca il piano Piano di battaglia Ok Allora Perfetto Allora Potenziamo Tutte Tutto Potenziamo tutto A livello 2 Intanto Esatto Che almeno Almeno qua siamo Siamo a posto Perfetto Quei potenziamenti qua Siamo a posto Bene Molto bene Molto bene E recupera particelle atomiche Esatto Che è quello che facciamo adesso Qua c'è particelle atomiche Vai Benissimo Qua cosa c'è? Guardia Qua ci sono soldi Ok particelle atomiche Mi interessano le particelle atomiche Perfetto Perfetto Bene Stanno upgradando il tutto Mi fa estremamente piacere Signore E' quasi Perfetto E stiamo senza soldi Come facciamo Che facciamo Che facciamo Allora Allora Dobbiamo completare anche una ricerca Però non possiamo Prendiamo un po' di missione secondaria Questa è un po' di missione Questa è un po' di missione Questa è un po' di missione Prendiamo un po' di missione Storia secondaria Quello che stiamo facendo adesso Ok Sì sì vai vai fate fate Dobbiamo fare questa ricerca qua Esatto Che è abbastanza easy In realtà E' già una ricerca in corso In un altro modo Non c'è Non possiamo fare Ricerche multiple Non c'è No Mi sa che non c'è neanche da sbloccare Tipo ricerca multiple Come mai così tutti i soldi Tra l'altro Andiamo a fare qualche Qualche bellissima missione In giro Qualche bellissima missione Eccola qua Rubacchiante Tipo queste qua Giganti Che vanno Che vanno benissimo Qua cos'è? Operai? Un gruppo di teppisti? Ah ok Questi Vabbè vai Questi possono servire Prendiamo un po' di minion Gratis Ok Bene Qua abbiamo altri soldi Random Ok perfetto Ora abbiamo abbastanza soldi Va bene Abbiamo abbastanza soldi Frattuto Qua abbiamo Un soldi Ok Qua possiamo fare qualcosa Sì Vai Storia secondaria iniziata Ah ok Perché siamo arrivati Non mi ricordo neanche dove Però Siamo iniziati da voi bene Side story Began Bene Benissimo Stiamo messi molto 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 bene Ok E ci interessa Ci interessa fare cosa? Task complete Ma non posso Ma non posso avere più soldi Domanda È possibile Del più soldi No Sì Chiedo Ok abbiamo finito Ok Sconfiggi gli investigatori nel covo Ci sono delle Faine nel Pullare Il covo Brulica Di investigatori È ora di eliminarli Eh sì Eh sì Hai perfetto Avete Hai perfetto Mentre Lì An intruder In my lair Find them And we eliminate them Ok Ah ok Qui è strabello che Cioè Boh Ci sono le trappole Ma non ci cadono neanche sopra Boh Vabbè Ci sono Sconfiggi gli investigatori Nel covo Ma sapete che io Non gli investigatori Però non ne vedo In realtà Più di tante Non so come mai Una via Bene Maximilian Dove sei? Vieni qui Vieni qua Mi serve che fai un po' di Maximilian Mi serve che fai Potenziare tutti Di colpo Ciao Sì però Cioè ok Dai Vorrei Qualcuno però Vai Ok 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 in ricarica Dovremmo Lo possiamo fare Un'altra volta Mi sa Mi sa Lo possiamo farlo Un altro paio di volte No Non di più Mi sa Se non sbaglio Vabbè Lo facciamo adesso Armi e servitori Con grandi bastioni Elettrificati Benissimo Facciamo questa Questa Bene Ok Allora Ingrandiamo la zona Qua di controllo Per favore L'armeria La voglio fare Più grande Esatto Ok beh Anche così Non è male Perché Dobbiamo controllare Tutto Perché Adesso Siamo arrivati In quel momento Lì In cui ci serve Ci serve Il controllo Totale Della situazione Quindi Anche qua In realtà Ti faccio diventare Parte di questo Spostiamo la porta Indietro Quindi questo qua Spostiamo la porta Indietro Tipo di stanza E questo Diventa parte Della stanza Hola Confermo Ok 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 Così qua Possiamo mettere Anche nuovi Bastoni Grossi Non male Ok Mettiamoli qua Mettiamoli qua Tanto Sì sì Mettiamoli qua Mettiamone Mettiamone Quattro Cinque Mettiamone cinque Portabastoni Strodenti Portamanganelli Allora cinque Sei Sette Mettiamo Ma esatto Facciamo una cosa Di questo tipo Cioè Questi qua Togliamoli Sì questi qua Li vendo Perché voglio solo Quelli più potenti Questi qua Scarsi Non è che mi interessa In realtà Cioè sinceramente Tanto poi ho quelli potenti Venga Vendiamoli Ok E qua mettiamo Questi La ruota Ok Che secondo me È anche A parte È più ordinato Sicuramente Poi forse È anche più intelligente Avere solo le armi Potenti Invece di avere Quelle più scasse No Domando Poi Poi non è detto Però Nena di massima Questo cos'è Mangano Listo Ok Bene E qua Invece ci sono La gattina Qua ci sono Le armi Ok Qua ci sono Le armi Sì Il training Si è fermato Per qualche motivo Ok Ecco abbiamo Le nostre armi Non sono tante Sono 5 Sono di meno Però Oh Tutti hanno un punto debole Stai per scoprire Cosa del vecchio Jubei Vai Cosa devo fare Ancora Sconfiggi Jubei Nel covo È qua Nel covo Dov'è Sta arrivando A parte che Allora I investigatori Non ne ho visti Mi dico la verità Ci saranno Ma io Questo Ti è La tecnica Questa porta qua Non è che sarò il tempo Per passare Va bene Ok Va bene E qua siamo Ok Allora Ma Jubei dov'è? Sicuramente Immagino che me lo indichi Non penso che Non penso che me lo lasci Incidere così Speriamo Spero Maximilian Che l'ha fatto Ah Ciao Si si Pensa Ascolta Fai una cosa Torna Torna Nel Nel Tu ufficio Va bene Oh Però l'ufficio di Maximilian Mi piace Nel sacco Almeno Almeno Quello L'abbiamo fatto giusto Ah Ah Fermi Fermi Non stiamo facendo Ricerca Gravissimo Allora Un compito più grande Compresso Genera dossier Utili per eseguire piani Ok Potenziai reti criminali Ti consente di potenziare Le reti criminali A livello 4 Tanto io ce le ho ancora Tutte al 2 Quindi Per adesso Quello non mi serve Porta fucili stordenti Con fucili reti fetticati Dare per cattolini Mi ci farà distanza Subito A pulmine Allora facciamo anche questi Direi Ma Assolutamente Costano un po' Costano un po' Ma Ma ha senso Spendere questi soldi Allora Facciamo Ok Facciamo un paio di Lanciamo un paio di potenziamenti Questo che è Ah Sì La tizia lì Ah partiamo comunque Un'altra volta da qua sotto Quindi da qua partiamo E andiamo su Ah Voglio potenziamenti Potenziarlo Solo l'unica roba È che è un po' alta la tensione Passiamo un po' di tensione Passiamo un po' di tensione Esatto Potenzia Vai vai veloce Potenzia Anche qua Potenzia Ok Anche qua Ah non abbiamo abbastanza potenze di segnale Ok Bene Dobbiamo potenziare Bene Dobbiamo potenziare il livello 3 Perché adesso stiamo Stiamo continuando sempre Ci stanno continuando sempre A servire più soldi Quindi Sicuramente ci serve Ci serve avere più 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 danari Quindi potenziamo Mettiamo questi capi potenti Ora Ok Bene Che sono i nuovi Si Che sono i nuovi computer Più potenti Ah È arrivato Signori È arrivato Jubei Benissimo Ok Allora Qua possiamo fare tutto così Ok Questo posso girarlo Assolutamente sì Bene E qua posso mettere altri computer E qua posso metterne Altri due In teoria Non ne sono sicuro Secondo me No Lasciamoli così per adesso Dov'è Jubei? Dov'è? Eccolo qua Il nostro Jubei Immune ai danni Può Schivare Tutto l'attacco Attiva la massima allerta Per l'entico vulnerabile Ok Sconfiggio Jubei Uh ci sono anche questi brutti signori qua Studente personale Sconfiggio Jubei Ah bisogna per forza Va bene No questi Questi fate che E attiviamo la massima allerta Attiviamo la massima allerta signori Vieni qua Vieni qua subito Vieni qua subitissimo Mi fa piacere che stava volando Spero che hanno perso un po' di vita Hanno perso un po' di vita 250 Siamo matti Vieni qua Vieni qua adesso Dove sei Mi piacerebbe che si potesse deletrasportare Sai Stora secondaria completata Ah abbiamo già vinto Va bene Abbiamo già vinto Ok Ah Abbiamo vinto quindi Quindi Jubei adesso è dalla nostra parte O no No Ma qui Non ho mica dov'è Niente quindi è qua nel sacchetto Non mi capite Mercenaria 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 Guardia Questa tizia Guardia Chi lo sa Spero che Arrivi Arriverà Ok Allerta massima Annullata Oh guardate Finalmente almeno Guardate le nostre guardie Sembrano guardie Vire Guardate qua Che bei manganelli Potentissimi Oh almeno Sembrano straforti Bene Abbiamo quasi completato Anche questa ricerca Qua Adesso La completiamo Ora Quindi Già qua Modifichiamo subito Esatto Arma e servitori Con fucile elettrificati Bene Benissimo Poi mettiamo questi Per uccidere Invece Quindi qua Sostituiamo subito questi Esatto Questo Portafucili stordenti Bene Allora Vendi 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 Ah Oh è più lungo questo Aspetta Bene Ah beh Non mi interessa In realtà più di tanto Sai Facciamo così Allora vendiamo Un momento tutto Facciamo così Teniamo i manganelli Un po' di manganelli Li teniamo direi Giusto perché Magari da vicino Possono Qualche guardia con i manganelli Può servire Secondo me Da vicino Poi mettiamo queste Poi mettiamo queste Mettiamo qua Qualche manganella Abbiamo detto Così Bene Qua così Abbiamo un nuovo Tipo Studente Personale Bene Ma possiamo Scorta Prigioniero E trasformarlo Scorta Prigioniero E trasformarlo Bene Vai Fate Fatemi questa Cosa Questa Voglio Vedere Cosa Diventano Diventano Semplicemente Quelli Dei Arti Marziali Lotto Dei Arti Marziali Questo Cosa Diventato Contro Spia Questo Questo è un servitore Che non abbiamo Ancora E' utile Trasformarli Però effettivamente Sapete Effettivamente E' molto Utile Perché Esatto Cosa è diventato Ah no Ok Sta scappando Ci ha provato Ok Ladra Va bene Che diventa Contro Spia Molto bene Dai Fate Fate Tutti Questi Coups Per favore Ok Cos'è che è diventato Esatto Combattente Marziale Esatto Esatto Che non abbiamo ancora Tra l'altro Esatto Neanche noi Però comunque Sappiamo Cos'è Questo qua Chi è Agente Atomica Olga Super Soldato Mi fa Abbastanza Piacere Sai Beh Più che altro Siamo Uh Questo Siamo Bassissimi Questo possiamo fare Questo Assolutamente Uh E forse riusciamo anche a completarlo No ok Siamo in lockdown Bene Grazie Ok Sono stati pagati Ah possiamo potenziare qualche altra basetta In realtà In giro qua Teoricamente È vero Sì Possiamo Questa Mi sta che è in lockdown E l'altro Esatto È in lockdown Perché c'è quel brutto signore lì E non abbiamo i dossier Quindi ci serve sicuramente In uno Sicuramente Nel prossimo episodio Ci bisogna sbloccare Il Come si chiama Ma qua perché ci mancano dei Ah sì Perché li avranno rubati Sicuramente Sì perché ovviamente Quando giustamente Rubi qualcosa Sparisce dalla tua base Capito Non è che Ma mi sembra anche giusto Cioè non è che Non è che succede Sparisce 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 dalla tua base Giustamente Non è che Lo rubano No no Si smaterializza Proprio Tutta Tutta la scansia Con dentro I miei lingotti Proprio Stra easy Insomma Allora no Stavo dicendo Mi serve Mi servono i computer Più potenti Questi computer qua Più potenti Mi servono E quindi Lo dobbiamo fare Ci serve Per forza Ci serve per forza E c'è C'è la ricerca Da fare Però prima bisogna Anche fare Questi Quindi prima Faccio Questo Assolutamente Prima Assolutamente Questo E poi Faccio Questi qua Che sono No Questi qua Che sono I Computer I computer Più potenti Semplicemente Quindi Signori Da Jurassic 10 È tutto Vi ricordo Mi piace Ci è piaciuto Iscrivetevi Se siete ancora Fatto E noi Signori Ci vediamo Direttamente Al prossimo Episodio Di Evil Genius 2 World Domination In cui Neanche stavolta Purtroppo Siamo riusciti A catturare Jubei Quindi Io non ho mica Capito Come Ho messo Pausa Non ho capito Sinceramente Non sto scherzando Come prendere Gli Enchman Perché io L'ho convinto Proprio Straconvinto Infatti Lo vedete Anche Negli episodi Sponti Ero mega Convinto Di Di Prenderli Da qua Di Prenderli Da qua Cioè Sconfiggendo I boss Criminali Diventavano Mie Enchman Invece No A quanto Pare No Cioè Non 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 Sconfiggere I superagenti I superagenti Tipo diventano Miei Enchman Quindi Non lo so E' quello il problema Non lo so Vabbè Comunque signori Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao Tutte